oggi facciamo il ragnetto si lo so così fa ridere il ragnetto ma che cos'è il ragnetto ragno spider man spider pork spider pork vabbè il ragnetto no il ragnetto è nient'altro che questo qui in sostanza è un taglio che si trova all'interno dell'osso dell'anca del nostro manzo è quello che consente i movimenti del diaframma pelvico per intendersi naturalmente vedete perché ragnetto perché ha una tela di tendini molto molto fitta e naturalmente che cosa potrei fare o potrei fare una cottura ad altissima temperatura per pochi minuti oppure fare una cottura lenta ed è quello che faremo 4 ore a 120 130 gradi sul nostro broil king signet 390 lo metteremo sempre sulla parte superiore e con il bruciatore di sinistra acceso al minimo quello centrale spento e quello destro spento andremo a farci la consueta cottura in diretta per cui ve lo faccio vedere bene anche dalla nostra altra telecamera il posizionamento della carne e questa carne qua come ce la facciamo ce la facciamo così va come ho detto circa 3 4 ore fino a quando al centro non sarà arrivata a 90 gradi noi ci aiuteremo indovinate con che cosa esatto con il nostro termometro a sonda e poi ce l'andremo a mangiare perché 90 gradi così almeno i tendini si saranno belli ammorbiditi belli rilassati la carne non sarà per niente asciutta almeno nelle speranze e comunque noi visto che abbiamo 4 ore da spendere a parte ubriacarci e ci andiamo a fare una bella salsina di accompagnamento il cimiciurri no che cos'è il cimiciurri il cimiciurri è la salsa verde tipica dell'america latina si usa nella cucina brasiliana si usa nella cucina messicana si usa nella cucina argentina soprattutto e noi la abbiniamo invece a un taglio ragnettoso andiamo a vedere come si fa allora che cosa serve per il cimiciurri dunque l'olio extravergine d'oliva l'aceto di mele poi servono due spicchi d'aglio circa 10 grammi di peperoncino fresco 50 grammi di cipollotto fresco 50 grammi di prezzemolo 10 grammi di origano poi ovviamente servirebbe anche il cumino che non ho non ce l'ho e va ovviamente servono anche il sale e il pepe e poi che cosa bisogna fare o si prende un mixer e si frulla tutto oppure col coltellone si va a triturare io lo farò col coltello prima perché un po' di tempo da spendere e secondo perché cerco di dare una bella consistenza a questa salsa che poi con il mio ragnetto mi darà una grande soddisfazione andiamo prima sulle cose un pochino più semplici da tagliare il peperoncino al peperoncino ovviamente tolgo per quanto riesco i semini oltre almeno mi tengo soltanto la polpa poi se voi puristi mettete anche i semini io non posso costringere per fare una roba diversa a me piace senza semini ma faccio senza semi adesso ci prendiamo il nostro rigano sarà la parte un pochino più menosa perché perché ne ho bisogno 50 grammi questo dovrebbe essere 85 più o meno 83 adesso provo a toglierlo e guardo quanto pesa la scatola la scatola pesa 20 non ho bisogno 50 83 meno 20 63 magari non metti un po più lunghi con questo da tritare sarà un bel macello vabbè dai forza non perdiamoci d'animo e basta ovviamente ragazzi le dosi che vi ho dato sono per quattro persone per cui salsa a sufficienza per quattro persone ci siamo quasi ovviamente non sarà mai tritato in maniera perfetta primo perché questa operazione richiederebbe una tecnica che non ho secondo perché da un certo punto di vista mi piace anche lasciare un pochino grossolano modo tale che in bocca si senta se no diventa una maionesina che non è esattamente quello che voglio ok è la prima l'abbiamo fatta adesso dobbiamo mettere questo e due ok adesso tocca l'origano ma prima laviamo il nostro tagliere anzi prima dell'origano faccio l'aglio 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 invece cerco di farlo un pochino più fine visto che in bocca un buon gusto però vorrei anche mantenere una certa socialità bello fine chi tocca cipollotto va bene pronta che il nostro cipollotto fresco è messo insieme al resto ci mancano l'origano insomma ci siamo quasi ecco anche il nostro origano e abbiamo finito grazie di ritritare perché mi sono tritolato anche qualcos'altro oltre che le nostre verdure almeno credo adesso faccio un attimo mente locale si aggiungiamo 10 ml di aceto di mele un po di pepe nero ovviamente un po di sale manca solo l'olio e adesso andiamo di olio alla grande iniziamo un po a girare il tutto considerato quello che mi è costato in termini di sbattimento non voglio buttarne via neanche un pochino ma un pochino dovremmo sacrificarlo adesso vado ancora avanti con gli olio fino a coprirlo allora il nostro cimiciurri è pronto adesso lo copro lo metto in frigo e poi stasera ce lo mangiamo insieme al ragnetto su cui adesso andiamo a finire di lavorare voglio essere sincero con voi ho un piccolo problema di congestione di macchine perché qui sta andando il ragnetto allora ho messo in piedi anche ovviamente il q3002 per far cosa per mettere qui il ragnetto in modo tale che li possa mettere le mie lette di pollo cerco di fare un lavoro rapido per non perdere la temperatura qui siamo già intorno ai 110 naturalmente diversamente dalla signet ho dovuto accendere solo il bruciatore centrale del q3002 quindi metterò un ragnetto qui e un ragnetto qui cercando di fare l'indiretta con un q3002 un pochino più complicato semplicemente perché perché la serpentina è fatta il bruciatore anzi scusate è fatta in maniera diversa allora il nostro signet tanto vedete come è diventato dopo circa tre ore e mezza il nostro ragnetto wow vai ragnetto al cuore siamo intorno ai 75 vi ricordo che dobbiamo arrivare a 90 noi adesso facciamo così lo chiudiamo e ciao ciao ragnetto tre ore e 40 minuti sono passate tre ore e 40 minuti e il mio ragnetto di manzo è diventato così al cuore adesso l'abbiamo aperto da due minuti abbiamo anche spento per cui è salito di un paio di gradi è intorno ai 90 92 per la precisione quindi adesso non ci rimane altro che toglierlo per cui noi andiamo a prenderci la nostra bella pinza tra l'altro qui abbiamo già messo il cimiciurri che abbiamo tolto dal frigo e che oggi mi è costata tantissima fatica a fare allora ci prendiamo il nostro primo ragnetto ce lo portiamo bello bello sul nostro tagliere e adesso visto che ha già riposato un momento andiamo a tagliarlo portarlo al cuore a 90 gradi ha significato andare a sciogliere tutti i tendini e adesso anche il mio ragnetto è estremamente morbido oltre che è partito sul tavolo di chai unix meno male che l'ho pulito vedete che dentro ovviamente è molto cotto vediamo però se è anche molto morbido bucciatina nel mio cimiciurri che devo girare devo girare della verità vediamo un po ragazzi è una consistenza pazzesca non si è per nulla asciugato è non morbidissimo questo va detto però devo dire che me l'aspettavo ancora più tenace e invece i tendini essendosi sciolti hanno comunque contribuito a lasciare la carne relativamente morbida il nostro cimiciurri magari adesso ci aggiungiamo ancora un pochino di olio e lo serviamo così però una consistenza straordinaria devo dire che questa è una ricetta che mi è piaciuta tantissimo ovviamente se non taglio poco conosciuto questo video riscuoterà poco successo magari anche perché sono un cane e non l'ho cucinato al meglio però devo dire che proprio i tagli più sconosciuti o i tagli meno sconosciuti se preferite mi stanno dando tantissime soddisfazioni vado a tagliarmi anche il secondo ragnetto poi me lo mangio intanto vi saluto ah ovviamente info chiocciola bbcool.it il borno stile direct scrivete qui sotto le solite cose ciao